Dal Vangelo secondo Matteo Né due tuniche, né sandali, né bastone Perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento In qualunque città o villaggio entriate Domandate chi là sia degno E rimanetevi finché non sarete partiti Entrando nella casa, rivolgetele il saluto Se quella casa ne degna, la vostra pace scenda su di essa Ma se non è degna, la vostra pace ritorna a voi Grazie 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 Grazie